La panoramica dei rimedi. Le maschere fortificanti per capelli fai-date possono diventare un'ottima scelta al posto dei farmaci e delle procedure costose nei saloni. La loro composizione naturale garantisce i migliori risultati senza causare alcun danno alla salute. I loro componenti idratano i capelli ed il cuoio capelluto, nutrono con le sostanze benefiche, prevengono la calvizie, stimolano la crescita accelerata delle ciò, ridonano loro la forza e lucentezza naturale. Non ci vuole tanto tempo ed impegno per preparare i composti, vi proponiamo le ricette semplici ed efficaci che potrebbe usare ogni donna. Per fortificare le radici è molto facile preparare le maschere per fortificare le radici indebolite. Prendete una cipolla suosa e la metà di un limone. Grattugiate, frullate o macinate la cipolla, quindi spremetela bene, dovete raccogliere solo il suo. Massaggiatelo delicatamente su radici e cuoio capelluto, avvolgete la testa con un asciugamano tiepido. Il tempo di posa è due ore, dopodiché lavatelo via usando uno shampoo fortificante. Gli agenti cosmetici non aiuteranno a sbarazzarvi dell'odore della cipolla perciò dovete preparare un balsamo per il risciacquo, versate il succo di metà limone in 1,5 L di acqua tiepida. È garantito che l'acqua acidificata dal suo di limone eliminerà l'odore sgradevole, che, allo stesso tempo, renderà le ciohe morbide e setose. La maschera stessa è ottima per riscaldare il cuoio capelluto, attivare la circolazione del sangue, stimolare i processi metabolici. Nei follicoli dei capelli rinforzandoli. Si può dividere il trattamento in corsi, di un mese ciascuno, due a tre volte alla settimana. Se le radici sono molto trascurate, si può ripetere la procedura ogni giorno. Per la chioma se la ricetta sarà ideale per le donne con i capelli danneggiati dallo schiarimento e dalla permanente. Unite insieme un chiaino degli ingredienti seguenti, il miele liquido, l'olio di bardana e il succo di aloe. Mischiapeli in un contenitore di vetro o di ceramica fino ad ottenere un composto omogeneo, massaggiate sulla pelle e sulle radici. Quindi spalmate il resto sui capelli. Lasciatelo agire sotto una cuffia termica per 30-60 minuti, dopo di che lavatelo via e risciacquate la chioma con l'infuso di camomilla o di ortica. Questo rimedio accelera la crescita dei capelli, nutre e satura i follicoli svegliandoli, cura le due punte. È consigliato applicare la maschera due volte alla settimana fino a quando la capigliatura diventerà lucida, elastica e disciplinata. Per fortificare le punte mischiate curo cucchiai di succo di carota con la spremuta di un limone e un bicchiere di infuso di menta. Applicate il liquido sulle punte pulite. Dopo 5 minuti lavatetelo via con l'acqua tiepida. La cheratina naturale riempie le strutture danneggiate, liscia i capelli, ti dona loro l'elasticità e la voluminosità. L'acido ascorbico rappresenta un antiossidante che neutralizza le sostanze negative sulle ciocche. Per i capelli tendenti all'untuosità i capelli grassi possono essere la causa non solo di tanti disagi per le donne ma anche dell'indebolimento dei bulbi. La senape in polvere ha un dioeffetto fortifica la chioma e regola il funzionamento delle ghiandole sebacee. Per preparare la maschera sciogliete due cucchiai di senape in un diere di acqua bollente. Versate il composto in un litro di acqua tiepida e lavatevi i capelli. Massaggiate accuratamente il cuoio capelluto però state attente che il contatto con la senape non superi 4 minuti, altrimenti si può provocare una reazione allergica. Lavate via con l'acqua corrente senza shampoo. Il rimedio attiva la circolazione del sangue nel cuoio capelluto cura la seborrea e ricostituisce l'equilibrio dell'unto. L'applicazione regolare di questa maschera rende le ciocche più folte, più voluminose ed elastiche. Per la foltezza della chioma la riccia è ideale per le donne che vogliono far crescere i capelli belli e folti. È un composto che comprende diversi componenti che, stimolano la crescita dei capelli, tivano il funzionamento dei follicoli, te nutrono, idratano e curano le lesioni. Per preparare la maschera riscaldate a bagnomaria a una temperatura ideale per l'applicazione un misto di un cucchiaio di polpa di cipolla grattugiata o frullata, 15 ml di infuso alcolico di calendula, 15 g di miele liquido, 15 ml di cognac. Sbattete bene un tuorlo d'uovo e versatelo nel composto. Mescolateto bene, applicate il rimedio finale sulle radici e sul cuoio capelluti, il resto spalmatelo sui capelli. Lasciate la maschera agire sotto una cuffia di polietilene e avvolta in un asciugamano tiepido per almeno un'ora, dopodiché lavatela via usando lo shampoo e risciacquate i capelli con acqua e limone. Il trattamento al kefir Il kefir è un prodotto che possiede tantissime proprietà benefiche, regola il funzionamento normale delle ghiandole sebacee e tile adattati ai tipi dei capelli, li reidrata e satura con le vitamine e con le altre sostanze necessarie, e stimola la crescita delle ciohe belle e sane. Per il trattamento o la prevenzione prendete 100 ml di kefir con il contenuto dei grassi più alto. Massaggiatelo su cuoio capelluto e capelli, dopodiché avvolgete la testa nella pellicola e mettetevi la cuffia termica per 2-3 ore. Se avete i capelli grassi, conlavatetelo via con lo shampoo, se avete i capelli si acchiusate solo l'acqua. Per i capelli del tipo misto unite il kefir con un tuorlo d'uovo, questo rimedio può essere usato al posto dello shampoo e balsamo. Le procedure renderanno la vostra pettinatura curata e displinata, più voluminosa e lucida. Contro la perdita dei capelli la birra aiuterà a prevenire la caduta dei capelli. Si deve scegliere la birra cruda, non filtrata e scura, necessariamente fresca, solo un prodotto con queste caratteristiche è il più efficace. Inoltre, dovete prendere 70 grammi di queste erbe miste ed asciutte utilizzandole in dosi pari, terdice di bardana, tilupolo e calamo aromatico. Versate la birra calda sul misto di erbe e lasciate in infusione per un'ora. Filtrate il composto finale e applicate sui capelli e cuoio capelluto. Il tempo di posa è un'ora al caldo, è consigliabile tenere la maschera aperta la noe per aumentare l'effetto e di mattina lavarla via come al solito. Per l'idratazione uno dei prodotti più semplici e facilmente accessibile che si può usare per fortificare e riparare la chioma e l'olio d'oliva non raffinato. Esso è rio di vitamine, e minerali e antiossidanti che aiutano ad eliminare le sostanze dannose dai capelli. La maschera all'olio non solo stimola la crescita, ma anche reidrata le ciaia rendendole elastiche, morbide, disciplinate e lucide. Per preparare il rimedio unite 100 ml di olio tiepido e la spremuta di mezzo limone. Massaggiatelo accuratamente sulle radici e stendete sui capelli, coprite la testa con la cuffa per la doccia, avvolgete con l'asciugamano e lasciate in posa per almeno 40 minuti. Dopodiché fatevi lo shampoo come al solito. La maschera vitaminica le vitamine sono molto efficaci durante la cura. Si possono aggiungere agli shampoo e balsami che usate quotidianamente. Vi proponiamo una ricetta della maschera che ha un'azione fortificante sul cuoio capelluto e sui capelli che stimola la loro crescita e previene la loro caduta. Per prepararla mischiate gli ingredienti seguenti, 30 ml di sodialoe, 2 tuorli, 15 ml di infuso di peperoncino, 20 ml d'olio, di calendula, un chiaino di tocoferolo, un chiaino di retinolo. Applicate il rimedio sulle radici, quindi spalmate sulle cioie e pettinatevi. Il tempo di posa è un'ora al caldo, dopodiché lavatelo via con l'acqua e lo shampoo. Per il benessere generale un misto di farmaci e di oli naturali aiuterà a risanare i capelli, restituire l'equilibrio idrico e fortificare i bulbi. Per preparare la maschera mischiate 40 ml di olio riscaldato di ricino e di bardana. Unite con un chiaino di dimetilsolfossido ed applicate il composto sulle radici con un batuffolo di cotone. Mettendo la cuffa di polietilene e avvolgendo la testa con l'asciugamano tiepido creerete un Efeus R extra che aumenterà l'impao dell'azione dei componenti. Lasciate agire per 40 minuti, quindi lavate via con l'acqua tiepida e shampoo. La salute accelererà la loro crescita. I consigli degli esperti. Per migliorare i risultati dell'applicazione delle maschere per capelli fai date e gli esperti consigliano di rispettare alcune regole. Innanzitutto bisogna dividere il trattamento in corsi, applicando due a tre volte alla settimana fino a quando i capelli si ricostitutuiscono. Quindi fare un mese di pausa. Per la prevenzione usate i rimedi una volta ogni 1 a 2 settimane, questo sarà sufficiente per mantenere il benessere della chioma. Preparando e applicando i composti bisogna considerare le regole seguenti. Prendete solo i prodotti freschi, preferibilmente fatti in casa. Si può ottenere l'effetto desiderato solo usando gli ingredienti di alta qualità. Se nella ricea dovete usare gli oli essenziali, ricordatevi che la loro temperatura non deve superare 30 gradi S perché, se surriscaldati, perderanno te le loro sostanze preziose. Bisogna riscaldare gli oli vegetali prima di applicarli per facilitare il loro assorbimento. Se avete i capelli grassi, i componenti oleosi possono aumentare la secrezione delle ghiandole sebacce, quindi è consigliabile scegliere un'altra ricetta. Mescolate i composti fino a renderli omogenei, in quanto non devono contenere né pezzettini, né grumi. Fate i test di prova allergica per ogni nuovo rimedio. Applicate una piccola quantità della maschera sulla parte interna del gomito e aspettate 15 minuti. Se non avrete arrossamenti, pruriti o altri segnali allergici potrete iniziare il trattamento. Per pulire le ghiandole sebacee e fortificare i bulbi dei capelli bisogna fare il peeling. Il sale marino sarà ottimo per questo scopo. Massaggiatelo sulle radici bagnate e sul cuoio capelluto quindi lavatelo via. Utilizzate i rimedi fai-da-te con una frequenza regolare, perché un'applicazione singola non donerà il risultato atteso. Facciamo il resoconto. Le maschere casalinghe non sono per niente peggiori delle procedure fortificanti usate dai paieri. Esse sono abbastanza facili da preparare ed usare. Non richiedono né tanta spesa, né conoscenze specifiche. Inoltre, i componenti che fanno parte dei composti aiutano a risolvere diversi problemi quali la secchezza o l'untuosità, dall'idratazione e la nutrizione dei capelli e del cuoio capelluto. Scegliendo una ricetta considerate sempre il vostro tipo della chioma per ottenere il migliore effetto. L'applicazione regolare dei rimedi naturali ridonerà alla vostra pettinatura voluminosità, foltezza, rafforza e salute.